Tu l'hai fatto qui? Avete visto questo, Cody? Ma cosa era? Non potevo dire! Vieni, 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 vieni! Vieni, 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 vieni! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni! Non sto scherzando, non sto scherzando! Pro, 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 pro! Se mi arrivo rotto... Ah, non posso camminare qua! Sì, è dentro qui! Ma questo cos'è? Let's go, control, sin x! Ma cosa sono queste cose? Guardami, guardami! Ma ci sono le... i baccarozzi, che schifo! Ma cos'è quella roba? Io sono nella merda! Ma questo è un verme vero! Ma che ne so! Io penso che è morto, Cody! Ma queste cosa sono? Carcasse di insetti? Non lo so, zia! Ma perché non aggiungiamo un po' di particellari? Ehm... Ah, non male! Oh, no! Le talpe! Le talpe! Belle, le talpe! 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 Oh, oh, shit! Oh, shiiiiette! Shiette! Shiette! Uh, bam! Ah, attenzione, attenzione! Zitta! Ciao! Let's gooo! Azza! Ma io devo dire, ma sto giocando per un coglione! Sì! Let's gooo! Volevo vedere cosa sarebbe successo! Let's go! In effetti, anch'ero curioso! Sei fermo! Piano, piano! Piano, piano! Non possiamo saltare insieme, sennò facciamo un bordello! Silenzio! Vabbè! Non è, non c'è, non è, non c'è, non c'è, son tantissime, madonna mia! Ma poi vuoi sapere cosa sono queste carcasse di insetti? Non capisco! Ma io non lo so! Sarà quel che mangiano, le bacche strane! Ci sono le pigne sotto! Siamo arrivati! Let's gooo! Si corre! Easy's! No, aspetta! No, no, perché? Ok! Perché continuavo! Fungo! Ok! 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 Cosa ho d'era di fare il gorgon? Cosa ho d'era di fare tutte le tuefette e infestazioni? Cosa non c'è a qui? Sì! Adesso andiamo qui! Wow! Guarda! Ti sembriva così lento! E... E... Vabbè questo è rincogliente! No! 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 Non l'avevo visto! Non l'avevo pisciato sulla tarpa! Cioè c'è letteralmente un indicatore di incazzamento! Non l'ho visto per niente! Non pisce sulle tarpe! Non l'ho minimamente visto! Stavo creando l'erba per camminare! Vabbè lo faccio da lontano, dai! Beh non fa casino, scusa, se non ci piscio sopra! Let's go! Scusa eh! Se piscio? Merda! Porca! Pian piano! Ti voglio uccidere ti giuro! Pianino pianino! Pianino pianino! Pianino pianino! Pianino pianino! Pianino pianino! Basta basta basta! Basta basta! BAM! Adesso? Non ci passi sotto cosa fai? Ma porca! Ti li devi! Eh beh sì perchè sei una erba! Io non creo l'erba, sono l'erba Ma la visuale è girata per me, non capisco dove devo andare Guarda me, guarda me e il mio schermo Giusto Oh no no Ma perché scompare? Mi ha litato in faccia Guarda, guarda, guarda Non rincuidermi. Io vabbè, non mi merito di vivere. Non mi merito di vivere. Ssssshh! Lascia per dopo, Luigi! Madonna! Guarda, hai passato il pato! Sì, è divertissimo! Uè! Uè! Ma che schifo! Sei tornato dentro. C'è un vermone. Vabbè, ti uccido. Ma no, no, sono tantissimo. Ma se ci salto sulla pancia, rimbalzo. No, bro, no, bro. È già provato, è già provato. Non c'è bisogno di provare. Vabbè, ti uccido. Vabbè, ti uccido. Non andare giù. Ma questo è sveglia, ma che c***o. Ora, ora, vai, 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 ora! Mamma mia. Posso uscire dal muschio? Certo. Ma com'è possibile? Un uomo incredibile. Oh, guarda! C'è un altro planeto purtroppo! Oh... Tornare per fare ciò che facciamo meglio! Oh, oh! Ma questo è Uncharted, ovviamente! Ti tirò via... Stava c***o. Ah no. Vabbè. Ahahahah, b***h! Vabbè. Vabbè. Sei tentato per caso me? No, no, no. Tranquillo, è stato un incidente. Oh! Oh! Oh, no. Oh! No! Oh, no... Ah! Oh! Ok. Go! Lasciano tutti uccidere dal nostro giardino! Subitamente! Eccoci, eccoci, eccoci! Subitamente! Sì, sono indietro, sono indietro, sono indietro, sono indietro, sono indietro, sono indietro! Skippa, skippa, scatta! Vabbè, vabbè... Sì, scatta! Sì, scatta! Ma sono due! Scatta, scatta! Scatto, scatto! Scutola, scutola! Sì, spero che abbia lungo la legge! Oh, cazzo, porca troia! No, 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 veloce! Veloce! Ah, adesso... ah, ok, non va avanti da solo, adesso. Oh, ok! Capita! 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 Penso di sì, no? Boh, sono abituato che nei giochi così... Cioè, quando ci sono sezioni nei giochi corrono da soli, tu devi solo spostare. Cioè, in realtà sto premendo S, però, boh... Non è così... Non è così... È... classica fine di queste sezioni. Tu sei troppo piccolo, sei piccolo e loro no. Classica. Via! 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 Ah, vedi tutti i ciccione paleso. Ma questo è un tirannosauro, non è una talpa. Ma... Adesso... davvero rimbalziamo, sì! Quello che volevo fare prima... Eh, fai... control, control! Control, control! Giù, giù, via! Qual è? Poverina! Ma che schifo! Questo è bullismo! Sì! È morta? No! Ah, no, è solo... dai, ma... Vabbè, ma povera dal... Ah, sì, cazzo di roll, devi fare... Oh, porca tro... Eh, meglio non cadere, porca puttana! Madonna, madonna... Sono l'unico vivo, ok? Oh, porca! Ciao! No, sono gli drossi! I soldi, perché ci sono dei soldi! Eh, le tappe prendono i soldi! Ma quando? Si vede che una sentita di... di... di salpe, eh? Ma... tu cadi? Ah, no, ok! No, aspetta, no, no, aspetta, che cazzo fai? Devi andare giù, aspetta! No, io l'avevo capito! No, io stavo andando ancora dritto! Si, imbocca una talpa, ma mi sembra giusto! È perché stavo guardando il tuo personaggino! Ma che figa sta parte, oh! Ma sono un impero di bastarde, quelle talpe, scusami! Sono cattivissime! Beh, certamente non ce n'è una! Però tu dici, magari da una a 150, forse... Eh, eh, eh! Eh, eh, eh! Eccolo! Oh, madre! Yo, chief! Yo, chief! Where are you, eh? Ma come è il taxi? Ma come è il taxi? Eh, non, non c'è la cultura! Eh, quella piazza ha distruttato tutto! Il più che ci siamo, è il fondo del giro! Quanto? Il prezzo è il francese! Il prezzo è il francese! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ma che figa? Ok, ecco qua! Oh, Dio! Ma che figlio! Ehi, guarda, big boy! Il mio francese mi ha ucciso oggi! Ehi, tu prendi il francese! Ehi! Sono qui! Tu hai visto un buggero, come me! Dumbledore! Come on, little clay boy! Niente da te! Niente da te! Niente da te! Esco! Da quando le... Le rane hanno uno scudo sulla schiena! Oh, là! Ma va, ma va! Salta veramente tantissimo! Oh, ma... No, ma è esagerato! È un'esagerazione! Un'esagerazione! Bish! Bish! Quali sono i tasti? Wow! Eh, con il tasto per lo scatto, non shift, l'altro corri! Non shifti? Non shift, l'altro! Quello per la schivata, tipo! E che cosa fa? Eh, scatta! Cioè, va, corre! La rana! Se lo tieni premuto! Perchè sta cosa? Perchè sta cosa? Perchè nessuno? No, no, no! Prendi! Non ho avuto questo! Sono qui per rinforzare! Vabbè, ma non è accaduto per niente, bro, te lo giuro! Vabbè, ma non è accaduto per niente, bro, te lo giuro! Credo che se tieni premuto il tasto vada più in alto! Beh, devi essere quick in alto! Decisamente sì! Sì, sì, decisamente sì! Infatti, invece, ho protestato! Vabbè! Mi dà fastidio che camminano lentamente! Puoi correre, scusa! Sì, ma non col tasto della corsa! Vabbè! Ma porca, ma sono down! Ma non capisco! È la terza volta che failo! Ma basta! Eh, si vede che sei entrato tu quello scorso delle due! No, veramente! Vabbè, devo stare zitto! Dio la madonna, Gesù! Vabbè, devo lavorare insieme su questo! No! Ma è scomparso sotto i miei piedi! Sei sulla sinistra, sennò scompaiono! Ma va! C'è una cascata! Grande bo... Stai zitto! E saltano troppo, non me lo aspetto! Guarda, tieni la madonna, ha preso l'incrocio! Ma... Codi! Dobbiamo lavorare insieme su questo! Dobbiamo lavorare insieme su questo, bro! Let's go! Devo andare a sinistra! Sinistra! Ah... È un po' bambino, ma eh... Grazie per la destra! Ma... È anticipato! No, eh! Eh... Ah, ok... No, sono anch'io morto! Ah... Ho camminato invece di saltare! Let's go! We made it! We made it! Questo è un mezzo italiano, non è francese! We made it! Però parlava francese, no? Si! Non mi piace... Non è un colore! Si! Colò! 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 Cosa è qua? Di farlo tu? Ah sì, devi farlo tu! Oh! Oh, Balengo! Cosa? Ah! M'era morte quella! Balengo! Scendi! E devi fare... No! Mi serve ancora! Non fa! Q Q! Premi Q! Ma io non posso... Ma io non posso... Tiralo! Però con il tuo corpo... Ah, ma sdira madonna! Allora, Mei! Aspetta dentro! Ok! Cosa è tu? Ah! Ok! Vediamo cosa tu puoi trovare dentro! Adesso? Ma... Ti ha ucciso, si! E ora? Ma che ne sa? Risali su quella percaz! Allora? Sinistra, sinistra, sinistra! Dietro, dietro! Ok! Ma devi farli tutti, ma che sbatta! Let's go, let's go! Wait! Ah! Vai! No! No! Tu puoi ridere ora! Oh! È il proprio problema! Non puoi correre qua quella rana! Ma perché non lo fai male? Quindi? Adesso muove tutto questo sotto? Sì. No. Ma... Ma scusa! Ha capito! Ah, ok. Nice job! Stacco da lontano! Guarda, guarda! È diventato Dante's Inferno. Esco! Sì, stiamo facendo progressi contro le infezioni! Il garden si sembra vibrante! Sì! Mi dimentico cosa era così, ma è morto! Abbiamo ancora alcune infezioni, però... Questi due giorni hanno freddo! Wow! E' ancora crescendo! Woohoo! Uhhh! 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 Guarda il mio garden! Questo è incredibile! Lì! Minigames? 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 Spossible! Uhhh! Lo vedo! Ho percepito! Uhhh! Finish! Cos'è finish? Finish! No, no, no! Non finish! Aspetta, aspetta! È il minigame? No, vabbè! No, vabbè! Esco! Direzione, a strisce, con cosa, tasto... Cos'è? Laterale del mouse... Ma che cazzo... Sì, sarà che cazzo... Ready? Slow! Slow! Vabbè! Cosa? Cosa? Oh no! So close! Oh merda, porca! No! Ah ma... Vabb... 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 Ehii! Vai! No! Nooo! Dai! Simpile! Ma? Ehi, che beckino eh! Ehi, che, ehi, che... Ehi, che beckino eh? Ehi, che, che beckino eh! Ehi, che beckino eh! Ihi, che beckino eh! Ehi, che beckino eh! Direzione... Voglio la revenge! Voglio la revenge! Dio madonna, riesco a batterti in un minigioco! Adesso mi sento in un botto! Sono messo stuck in un botto! Ma perché sbatto sempre qua? Let's go! Ahia porca puttana! Via via! Sì così! Sì così! No! Ma porca! Ma vabbè! Bravissimo! Porca puttana! Let's go! Oh! 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 No! 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 Ultimo! Vabbè! Vabbè! Guarda che spaccato il culo! No, non è vero però! Vabbè! 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 Questo era sabotaggio! Palese! Palese! E ho capito che la mia destra fa schifo! Capito! No! No! E vabbè! Vabbè! Così come... Ma sono brancato! Ma scusa! Fa! Fa! Fa tutto da solo! Io non premo tasti! Non premevo tasti! Mi schiantava! Vabbè! Godopoli! 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 Ho fatto anche il tuo record! Let's go! 28! 28! 28! 28! 28! 28! 28! 28! 28! la testa sotto via o cazzo prego decidiamo questo decidiamo la riva e verde verde no ho sbagliato devi dimmi il colore che lo faccio verde rosso no aspetta ma che non funziona cosa facendo il rosso rosso verde è giallo rosso blu è giallo è comunque spoiler ah scusami rosso giallo blu aspetta stai lì stai fermo stai fermo stai fermo su rosso lì fermo lì adesso devi andare a sinistra sì giallo giallo comunque sembra verde quella fa sempre bene nella vita blu 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 ma ma in realtà non so bro che ho sbagliato 12 volte no vabbè siete stupidi in culo però ditelo un pochino sia oh no no il giardino non mi ricordo più perchè ci ha buttato quell'altro stronzo perché voleva farci fare le cose belle tipo è la passione la passione si la passione per il giardino che Ehi, Mae! Ho un po' più di pelle di pelle qui! Wow! Questo è molto meglio! Wow! È davvero magico! Guarda che tu fai tutto questo crescere! Grazie, Mae! Vedi? Questo è per questo che amo il sardegamento! Eccolo lì! Eccolo lì! Oh no! Oh no! Sì, sono freddo con tutti gli uomini! No, no, attacca gli altri! Ma che male! Cioè, il teatro blocco così puoi attaccare gli altri nemici non tranquillamente. No, mi sei profilizzato! No, no, penso che... Mi sei profilizzato! No, no, dobbiamo fare questo, se non vedete continuano a spawnare! Boh! Io ti fai tutto sotto, vieni! Vieni! Io ho one shotto i volanti, poi ti arresti! Ma lui non lo fa! Ma... lui... Oh! Oh! Che buono! Oh! Oh! Adesso c'è la bossfight incredibile! Sicuro! Oh, forse no! Yeah, bro, questo è il boss! Guarda che giocando me! Quindi? Ma come saliamo? Scusi! Qua, qua! Qua, qua! Beh, anche là, è realtà! No, devi uccidere questo! Dobbiamo uccidere! No, quello! Io pulisco! Eh no, però dobbiamo uccidere questo! Nooo! Scusi! Nooo! Non serve! Dov'è? Tiralo giù! 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 Giù giù! Nooo! Vabbè! Vabbè, senti! Ciao! Nooo! Nooo! Ma che cazzo! Pulisco pulisco! Pesciaci tu! Ma non posso fare niente! Arrivo, arrivo! Pulito, pulito! Pulito tutto eh! Pulito eh! Tutto! È tutto pulito eh! Tira giù, via! Tira! Oh no! Non tira! Non tira! Non tira! Ma... Ti ho ucciso col mostro! Sono caduto! Ok! Tira, tira! Hai ucciso? Ah no! Allora! Pulizia! Via! Ma sì, il boss è questo ma... Lo uccidiamo così! C'è il boss, tra virgolette, è la pianta grossa! Via! Ok! Il tuo momento, il tuo momento! C'è tutto pulito! Guarda che roba! Non fa un flusso continuo, spara! Ma mi fa mai finire? Che due palle! Su dai, oh! Via! Via! Non c'è il big guy! Non c'è il big guy! Almeno, per ora non c'è! Cosa ti devi fare? Ah, niente! Quello probabilmente per salire! Lì! Via! Viene! Passa dalla ultima! Ti vuoi fare le augurazioni, ma? Siamo pronti tutti! Oh, madonna... Eccolo lì. Addirittura, la regina rosa. Non è una rosa. Era Isabel. Non è una mela. È un pomodoro. Cosa? Ma sei morto? No, adesso esci come pomodoro. Eccolo lì. Tu sei un pomodoro. Tu rotoli. E scatti anche. Let's go. Guarda, guarda, guarda. Ma ti incoglianino. Let's go. Via, via. Contro. Olè. 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 Cosa? Qua? Cosa? Cosa? Ehi, quella polpa di polpa è poesone. Oggi la rosa. Ok, guarda, guarda. Ma tu lo uccidi e io lo lavo? Che cazzo? Ma scusami. Mi sa. Che c'è vuol dire? Ehi, eh. Pulisci, pulisci. Pulisci, pulisci. Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto. Si tolta il pomodoro. Sì. I mostri. Oh, cazzo. Adesso diventi un fiorellino. Cosa? Oh no. Oh no. Aiuto. Attacca, attacca, attacca. Dove, dove. Non posso, posso. Non posso, posso. Mamma mia. Esplodi. Uff. 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 Ma vabbè. Il ballo del polpo. Sì. Oddio. Che cosa ci fa qua? Oddio. Buon lavoro, ragazzi. Non resta ancora. Oh oh. Lui ci entra dentro. Ah, sono io quello morto. Eh già già. Mi sto guardando a te, mi sa. Mi sto guardando a te, mi sa. Non mi ha fatto. Oh. Perché guardo te, non me? Perché io faccio sempre la cosa giusta, quindi mi segui... Porca merda, sono un coglione. Perché io faccio sempre la cosa giusta, con dire... No! No! No, bro, devi resisto, devi resisto, devi resisto, devi resisto! Pulito! Io sono una testa di cazzo, non capisco che problemi io abbia! È da essere così duro però, che un testo... Cioè, veramente, oh! Sono un coglione! Vabbè, ma non smetti di tirarmi cose forti, che poi divento... forte. Guarda, guarda, è un tuberone! Vabbè? Vabbè? Ora è il momento per toccare! Oh! Oh! Davo via, davo via tutto! Utilità! È figa sta boss fight! Bello, bello! Tu sei un tubero! Che io sono un... una lavanderina! Aiuto! Vabbè! Fringe frogs! Però non riesco... perché non riesco a uscire tutto questo? È fortissimo, è fortissimo! Un po' di gente stronza qui, eh? Via, pulite! Ahia, di pulite... Ah, perché è bagnato di... veleno! Vai, vai! Ho capito, quindi il veleno mi blocca il mio potere! Risolto! Chiorellino! Poi, andiamo in per la gioia! Adesso vogliamo andare in perla. Gli ultimi! Chiorellino! Joy, mi senti! Sto facendo per la gioia, io lo provo a aiutarti! E' appena ti abbassa il braccio! Non so cosa ti debba fare con il braccio, ma devi salire in testa e attaccare... Ora faccio quello che è meglio per te! Oh no! Adesso ci spacca i piedi! Oh no! Mi sono ammazzato per sbagliare! Oh no! Bro! Bro! Se mi fa spawnare in mezzo... Ah! Di sala! No! Stavolta è lentissima però! Diventa difficile poi! Poi si spaccano! Poi si spaccano i piedi ziii! No! Come? Perché è davvero? Spaccano tutto ziii! No ma non li devo! Non li devo! Nooo! 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 Oh si! Però ha spawno 1-2 nella zona safe, quindi se moriamo possiamo sfruttare la cosa! Si si si! Oddio! 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 Tutto decrepito! Tutto decrepito! May! May! Giù 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 giù! C'è il panzone! Vabbè! Dei sotto... vasi ci ha messo lì! Cosa prendi ora? Questa è un cetriolo! Questa è un'oliva! Cos'è? Un... lime! Un lime! Il potere di l'interno è rinforzato! Un'oliva! 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 Questa è qui! Questa è qui! Ah! Bro! Devi bagnare sotto! È quello che faccio sempre! Sempre bagnata sotto questa! Ah! Io non lo sapevo! Eh non lo sapevo! Sorry! Oh! C***o! Inoltre che è piena di merda un secondo! Vai vai vai! Tranquillo! Bagnaci i piedi! Bravissimo! Consiglio! Stanquillo! Ah! Può sentire il comprehensive! Potremmo ancora! Ah.. Devi accettare... Eloì... ... che potremmo! qui 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 Right.. Vado all'altra. No, minchia, sono tantissime, aiuto. È difficilissimo questo, bro. Vai, 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 qui in mezzo, qui in mezzo. Spacca tutto, spacca tutto, questa qui di fianco. Si pulisce, si, 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 si. Sbarrata sui piedi. Aiuto. Basta! C'è un'altra, c'è un'altra, aiuto. Ma il lime si rompe perché deve rompere, se non perché faccio schifo, però, si. Si, si. Spacca la testa. Sta arrivando, sta arrivando la mia testa. Arriva, arriva. E noi stiamo sfruttando di una volta per tutti. Penso di esserci. Non vabbè giù. Via. Finita. Esplode. Via. Esploso il cervello. Giustamente, però, lì si è passito. È bellissimo. È davvero è. Joy! Ah no. Tornata! Era corrotta dai rodi. Io sono ora. Ma che fiore è? Grazie. Una rosa. Ma non è una rosa, ma ti sembra una rosa. Oh, grazie. Non è venuto fu. Ma no, poi mi avevo detto di no. Ero un raccoglionato. Scusate. No. Scusate. Non ho capito di capire il quale importante era per Cody. Lo so. È buono. Ma non è il quale di essere il quale di essere il quale. Ma non ti permette di essere il quale? Di solo di incoraggiare i altri? Ma non ho capito di continuare a seguirci se non ci crede ne? Non si può prendere i tuoi sogni. Ma non si può prendere i tuoi sogni. Ma non si può prendere i tuoi. E' tutto per te Scusate di perdonare di nuovo? Abbiamo vinto? Abbiamo vinto Momento Non so neanche parlare Non mi vengono le parole Sto zitto Momento Momento Non mi viene come si dice Annaffia ora Se no accade subito Scemina Come si chiama? Momento No mi viene proprio deutico Non c'entra niente Ma perché parla con i fiori? Didattico ecco Didattico Perché cosa ha detto di didattico? Sì assai d'accordo Segui tuoi sogni Assolutamente può toglierti lì Può toglierti i tuoi sogni Poi Tra l'altro Consigli da un fiore Bello Sempre Sempre al top Le bam Classico Classico Numero 3 No non tocchiamo questo Dove ho visto questa cosa Beh la cucina Cosa può piacerle Se no Davvero canta No Bello Adesso ho un potere incredibile O forse di merda come te prima E tu bello Alla fine però era una patata io Effettivamente hai ragione Se tu hai dato parte di te stesso Ma Ma È tempo per te Per trovare Vole Vole Siete pronti Per trovare La ultima Piazza La lettera Ma con che faccio? Dove siamo? Una libreria. Ah, com'è la scrittura? La luce del bambino. Sonsori. Ehi! Hai riconosciuto questa scuola? Eh? Oh, non mi piace dove è andata. Si canta e si suona? Cos'è? Oh! Glielo dischi? Sì. Benvenuti al concerto! Ma, è il momento di cantare! Oh, no, no. E' questo! Non ci darà l'ultimo pezzo di lettera, se non ti canti. Scusi su questa scuola e mostri gli cosa hai. E' un altro scuola? E' il mio nuovo giocatore di record! E' non rompere i coglioni. Questo va veramente... E' il migliore! Questo è il migliore! Oh! No! Oh! Ma scusami, ma ti possessa la mente cos'è? Questa è manipolazione è un... Ti possessa! Ti possessa la mente! Vabbè, io sono un cazzo di cimbalo! Oh no! Cimbalo! Tu dai lo scudo, lo scudo! Ma... La mia voce sarà la mia spada! E il tuo scudo sarà uno scudo! Ok, proviamoci la mia spada! Sono una sirena! Sono letteralmente uno scudo! Vieni, vieni, vieni! Ah, sono capitale america! Ma dov'hai una voce! Ti so. Una scudo di cantare che rende una scuola di me. Brum brum! Ma la prima cosa... E' uno dei tuoi più ragazzi, ricordi? Quanti anni fa? Versi, ora... Non preoccuparti! Non preoccuparti! Mi prometto di che... Questa è difficile secondo me. Devo prendere, cosa devo fare? Per perdere! Sì, lo so! Tu stai subito! Ah, c***o! Ah, capito, perché se fai troppo devi... Fa' un c***o. Sono caduto fuori in c***o. Vada! Buongiorno! Buongiorno! Come on! Vada! Vada! Ma è fighissimo usare queste cose, però, mi piace un sacco. Ma sbagli sempre quella roba o sbaglio, bro? Vada! Eh? Sbagli sempre quella roba o sbaglio? Io, 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 io! No! 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 Tu. No! si nella sigla come la seconda pop di sponge vabbè spettacolare poi ti mando una foto è bellissimo mandavala subito che aspetti? eh vabbè adesso è buio ho il cellulare di là per te l'ho dovuta la mano è bellissimo che fa tipo l'arcobaleno con le mani ed è tutta glitterata ah quello dell'idon givaffak no si senza idon givaffak però mi sa ipotizza e c'è un meme di lui con con la coppia di rimane fa tipo non te l'ha chiesto nessuno non è più un cazzo cattivissimo comunque per imparare il mio vieni qua vieni 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 ma che fa? vieni vieni mettiti davanti al coso sono lentissimo che pastiglio no no davanti è qua non serve un cazzo scusa ma cosa ti aspetti? zero? vabbè pensavo avesse un senso che mi fai interagire così inutili backstage let's sing together ah no zi ma io perché potevo cantare io ma magari avrebbe dovuto far quello ah è vero vabbè io so già che dovrò deflettere i colpi vabbè wow capitan america meglio di una cantante così a casa guarda i pannelli fanno assorbenti fotti fotti vabbè ma perché non mi sto zitto qualche volta anche io eh ma no zi non mi ha saltato ti giuro bro bro vada solo posso mirare? bro ma miro? urlo ma la smetti di dire la stessa cosa? bro continuavo a morire ma ecco 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 si ma siamo dentro una cosa inquietantissima dunque tira su olè bellissimo sembrava così cyberpunk ma per te sono bello ma perché doveva uccidermi una cassa? sfighami ma che cazzo ma ma io non so però penso che dobbiamo andare insieme ma sei della ragione la butto lì oh sì mi immagino loro che giocano e devono ok adesso in questa partita del gioco tu protagonista devi cantare come un uccello bene? c'è un microfono c'è un microfono via via devo urlare? ah sì così mi lanci e ora che devo fare io? ah ma anche io ah lo puoi fare anche tu è vero che c'è il timer io faccio all'istanza faccio no ma io ancora non ho senso di te no sì no no hai rotti i lacci prima oh senza di te non sarebbe grande sì allora lo locki? grazie cioè tu miri la voce e la spari forza mira 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 mi colpisce ammazza tutti ammazza tutto ammazza tutto ammazza tutto cosa vanno? metti dei soldi ammazza tutto ammazza tutto ammazza tutto ammazza tutto ammazza tutto ammazza tutto ambolismo amm Ho bisogno di arruinare! Oh, queste sono le piccole che mi ricordo! Dimi un po' più, beh! Ho bisogno di acqua e di acqua dopo questo! Ho rotto tutto! Mi svingi alla fine? Ok. Oh! Guarda i nostri occhi di quello! Guarda le ore, Cody! Ti fai bene! Ma fa molto! Ma cosa è successo? No, ziii! Perché? Fermo, ti sembra che un po' di inziarlo prima! Una mina, una mina! Vai ora! Porca! Ma dove siamo andati? Cosa è successo? Io non accetto che ci fanno volare e poi erghiamo qui! Vabbè, niente, lui si, a quanto pare! Un po' di inizio! Grazie! Vabbè! 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 Stavo pensando! Noi andiamo ad aiutare insieme, no? Classico! E tu sei fortunatissimo da avere mai come conquilino! Vabbè! Perché io, se ti dico, devo andare a cagare! Poi! Ci metto un secondo! Anche io se voglio! Il problema è che poi ci sarà successo tipo mezz'ora! Andiamo sul... Sui laser! Perché ho voglia! Così è divertente! Cioè è rilassato! Uiii! Vedi che adesso sei utile! Grande, cazzo! Let's go! Ma sono di nuovo! Stai lì adesso! Non è che volevo tornare da te! Ah no! Non mi fa tornare! Ah si è qui! Cos'è qui? No, è troppo complicato! Basta! Basta! Se avessi premuto il TF4... L'avevi sbohato! Secondo me dobbiamo prendere degli... Ah Bruce, posti quella cosa, se non sei accorto! Ho visto questo! Tony! Vabbè! Cosa ho fatto? Senti, senti! Non mi spingi! Non è vero! Non mi spingi più! Attento, azione! Pam! U-sti! U-sti! Tieni va! Olè! Ma fai tutto tu! Per forza! Hai mai fatto qualcosa tu? Adesso? Vabbè! Giro un po' la nuova! Viola! Viola! Eh no ma muori eh! Eh! Adesso è così! No, però mi stavo per lanciare! Ti ho uccido! Vai, vai! Risolta! Vabbè! Sei il vero player! Questo gioco non hai i text 2! I text Giulio è una little bit of tu! Eh! Una little bit of tu! Cos'è cazzo ha fatto? Ah! Sei tu! Vedi! Ogni volta che succede questo gioco, invece sono stato io! Eh! Eh! Anche io eh! 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 Si, me l'ha detto il master Adesso mi leggo tutto il manuale del giocatore della quinta Che io non so bene come funziona Anche ho letto un sacco di letture normale C'è il cartaceo in italiano C'è proprio un'altra questione No, c'è bisogno Mi mando qualcosa Vieni, vieni Vieni, hoнизì Sapo, mi lavorava Se fai tutti i temburi Non lo so È l'ultimo feste E' un'altra parte! Oh s**t. Ma questo, cioè, loro ce l'hanno in casa questa cosa, comunque. Cioè, lei ha un palcoscenico in casa. Oh no! Oh no! Oh! Oh! Hey Cody! Dami una scuola! Ho capito! Sei sicuro? Tristami! Io so come girare le nodi! Altro, altro! Oh no, davvero, stai a fare il capo pop. Cazzi, ma che cazzo fai? Vabbè. E poi mi diverti. E' veramente un clown. Ma cazzo, cosa? Eh sì, ho fatto tutto io, vai, vai pure. Cosa? Cosa? Vabbè. Pensavi di uccidermi? No, 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 dalla mia visualità si è trasportato. Palese. Perché devi spostare le cose quando non devi? Vabbè, vaffanculo, a me. No, no, senti. Guarda il topo mio. Ma devo aiutarti! Ahu! Hihi! Ahu, hihi! No, aspetta! Basta che cazzo fai stupido coglione. Bastardo! 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 Mas aspetta un secondo! Vabbè, va be. Vabbè, lo sapevo di aver chiuso. Va be, basta. Easy! Ma? Tatrish! Stai l'evole sulle nodi! No, 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 no. No, 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 no. Fiatto, piatto! Fiatto, piatto, piatto, piatto! Non so cosa devo fare, non so cosa devo fare. Fiatto, piatto, vabbè, questo è un bastard. Ma non so cosa devo fare Stefmo lì col blu Pia 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 Sto qua sto qua Più basso più basso più in basso ok Salta salta Basta basta Non troppo non troppo Ok vai Bro dammi i teletrasporti non capisco dove stai Salta Porca tua Non capisco una sega Ma ti giuro non ti muovi a caso Perché da un momento sei sul blu Dall'altro secondo sei sul blu rosso Cioè vabbè Ah vabbè Ma ce l'ha bisogno Io non credo ci fosse bisogno di questa cosa Non penso Olè Separati di nuovo Come ci piace Cosa è questo?